Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo all'Aquila, Rifondazione e Radicali questa mattina sono tornati a manifestare per chiedere al Consiglio regionale di procedere alla nomina del garante dei detenuti. Ascoltiamo il servizio di Daniela Rosone. Dopo cinque anni dell'approvazione della legge regionale proposta da Rifondazione comunista e mai applicata, Radicali e Rifondazione hanno chiesto a gran voce oggi dinanzi a Palazzo dell'emiciclo la nomina del garante dei detenuti. Tra i consiglieri sembra infatti non esserci convergenza sul nome della radicale Rita Bernardini, eppure Rifondazione e Radicali chiedono oggi di superare anche questo scoglio e se necessario proporre anche altri nomi, ma purché si arrivi alla nomina, oggi quanto mai essenziale. Pensavamo che con la candidatura da parte di Marco Pannella, di una personalità autorevolissima nel campo della questione del carcere come Rita Bernardini, finalmente il Consiglio regionale trovasse l'unità e procedesse rapidamente alla nomina. Purtroppo neanche questo è bastato. Adesso speriamo che dopo tutto l'omaggio che l'Abruzzo e la società italiana hanno reso a Marco Pannella, anche tra i consiglieri regionali si abbandoni un atteggiamento di Beghe. Io vorrei che il Consiglio regionale risolveste questa situazione a questo punto imbarazzante. Ha sbagliato Marco Pannella nel proporre la candidatura migliore che si potesse esprimere? Direi eccellente. Se ha sbagliato Marco Pannella lo dicano e i consiglieri che finora si sono apposti alla candidatura di Rita Bernardini ne propongono un'altra. E conseguenza della mancata applicazione di questa legge è la violazione di diritti umani fondamentali. A rappresentare l'osservatorio carceri per la Camera Penale dell'Aquila l'avvocatessa Aquilana Fabiana Gubitoso, che ha portato all'attenzione del Consiglio anche le oltre 250 firme raccolte nel carcere di Sulmona, affinché si provveda immediatamente alla nomina. E mai come in una regione come l'Abruzzo si sollecita questa figura, che sicuramente è una figura di riferimento per tutte queste persone ristrette. A me personalmente, come alle persone ristrette in Abruzzo, non interessa che la nomina sia quella di Rita Bernardini. Se questo nome può dare fastidio ai nostri consiglieri regionali, non ci interessa, purché si arrivi in tempi sicuramente molto brevi alla nomina di questa persona, come punto di riferimento per tutte le persone ristrette. In tutto questo l'associazione Nessuno Tocchi Caino ha organizzato per il 25 giugno alla Villa Comunale un sit-in per dire no alla tortura e no al regime di 41 bis. Restiamo all'Aquila, il sindaco Massimo Cialente rimane indagato, sono stati concessi altri sei mesi di proroga per l'inchiesta che lo vede iscritto nel registro degli indagati assieme ad altri due imprenditori. Il servizio di Giorgio Alessandri. A novembre 2015 il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente annunciava su Facebook di essere indagato dalla procura del capoluogo, specificando peraltro che si trattava di indagini preliminari e di non conoscere altri dettagli né tantomeno l'ipotesi di reato. Da mesi si rincorrevano voci di un ipotetico avviso di garanzia nei suoi confronti, un atto che però non è mai arrivato mentre è stato recapitato un avviso di proroga delle indagini. Dopo i sei mesi previsti dalla legge infatti, stanto a quando appreso e rilanciato da diversi media, il GIP del Tribunale dell'Aquila, su richiesta del PM Stefano Gallo, ha notificato a Cialente un'altra proroga delle indagini. Altri sei mesi per approfondire la posizione del primo cittadino e di altre due persone che sarebbero indagate, gli imprenditori Elisa Ioannini e per Giorgio Ruggeri. Tentata concussione e corruzione sarebbero, ma il condizionale sembra d'obbligo, le accuse mosse dalla procura. I dettagli della vicenda e dell'inchiesta sono coperti dal più stretto riservo, ma, stando almeno a quanto dichiarato dal sindaco in una intervista, tutto sarebbe legato a presunte irregolarità nei lavori di ricostruzione della sua abitazione privata. Una vicenda che si intrecerebbe, tra l'altro, con la tentata transazione per risolvere l'impasso sulla metropolitana di superficie. Al termine delle indagini, il pubblico ministero, titolare dell'inchiesta, potrà richiedere al GIP l'archiviazione o, se reputa, formurale invece l'imputazione, esercitando così l'azione penale. Nei prossimi mesi si saprà se si arriverà all'archiviazione o all'imputazione, con il PD che, nonostante Cialente è noto, non potrà candidarsi per aver raggiunto il numero massimo di mandati previsti dalla legge, dovrà affrontare una questione spinosa a pochi mesi dalle prossime elezioni amministrative. E adesso una notizia che riguarda le prossime elezioni amministrative con i ballottaggi, perché le seriste civiche della coalizione Amoroseto sosterranno al ballottaggio di domenica 19 giugno la candidatura di Sabatino Di Girolamo al sindaco di Roseto degli Abruzzi, candidato contro il sindaco uscente Ennio Pavone. Riteniamo che Di Girolamo, in questa fase elettorale, scrive la coalizione che al primo turno ha sostenuto la candidatura di Rosaria Ciancaione, sia la persona giusta per dare a Roseto il cambiamento necessario alla città. Adesso invece andiamo a Francavilla, tutto pronto per l'avvio del Luciani Bis. Il sindaco annuncia l'ufficializzazione della nuova giunta per mercoledì. Francesca Romana Testi. Scalpita in attesa della nomina per la sua nuova giunta. Antonio Luciani, sindaco riconfermato per il suo secondo mandato a gran voce al primo turno, attende l'ufficializzazione dei dati che entro mercoledì dovrebbero dare avvio al governo bis di Francavilla. Intanto però non mancano le polemiche da parte dei candidati sconfitti. È Levio Sarchesi ad aprire le ostilità con un post che celebra il rifiuto da parte di Giovanni Battista Natale di un posto inassessorato, ricordando che i grillini non accettano offerte partitocratiche. Per me la politica è fatta dagli uomini e non dai simboli ed è proprio questo il segreto del nostro successo qui a Francavilla. Continueremo su questa strada. Chi vuole il bene di Francavilla vuole far bene per Francavilla, a prescindere dal simbolo politico, dall'appartenenza, è ben accetto. Le idee sono buone non perché sono idee di centro-sinistro e di centro-destra, perché sono buone idee. Per il suo secondo governo Antonio Luciani ha le idee chiare. Visti i risultati la strada pare essere quella giusta e ora l'attenzione va alla stagione balneare in vista. Ovviamente il percorso di crescita deve essere accompagnato anno dopo anno. Noi abbiamo abituato i francavillesi a avere una splendida estate sin dal 2011, l'anno del primo insediamento, e l'estate 2016 sarà in quest'ottica, quindi sarà un'estate migliore di quella del 2015. Tra gli obiettivi di più lungo raggio c'è la bonifica dell'Alento e proprio su questo argomento arriva l'occhè della regione che la inserisce nel masterplan. Una delle cose più importanti che noi chiediamo, che poi è la bonifica del fiume Alento, perché noi in questi cinque anni ci poniamo l'obiettivo di riqualificare l'asta fluviale, fare un ponte che finalmente unisca le due parti della città sul mare e quindi possa farci continuare la splendida pista ciclopedonale e quindi rivalutare quella zona. Infine un messaggio rivolto agli sconfitti, o meglio un auspicio per l'avvio del nuovo governo di Francavilla. Cosa aspettarsi dagli avversari? Luciani risponde così. Io mi aspetto una riflessione seria su quello che è stata la volontà dell'elettorato e mi aspetto collaborazione da parte loro. Adesso invece andiamo a Teramo e cambiamo argomento, ci occupiamo dei temi del lavoro. 20 ore di sciopero da questa mattina alla Atria, dove i lavoratori chiedono certezze sul futuro e un investimento della proprietà per rilanciare l'attività. Paolo Lorenzetti. Stato di agitazione con un pacchetto di 20 ore di sciopero da questa mattina da parte dei lavoratori dell'Atria di Teramo che chiedono all'attuale proprietà di avere prospettive e certezze per il futuro con investimenti importanti in grado di rilanciare l'attività o di puntare alla cessione dell'attività stessa. I sindacati chiedono poi d'altro canto che a pagare dopo il sacrificio del contratto integrativo non siano ancora i lavoratori. Riguarda principalmente la prospettiva e i lavoratori chiedono all'azienda una cosa molto semplice. Questa proprietà ha acquisito dal gruppo Marazzi l'Atria per una somma simbolica. La questione è o la cedono a un soggetto industriale che è per il rilancio oppure la gestiscono loro, ci investono e la rilanciano. Il confronto è partito sulla base di un accordo che era stato sottoscritto in precedenza e che prevedeva la riapertura di una trattativa sull'integrativo. Ma il tema non è solo l'integrativo. La questione è complessiva. I rappresentanti della proprietà ci avevano garantito che la vicenda del rilancio dell'Atria sarebbe stata seguita oltre che dalle istituzioni ma anche attraverso un confronto con le rappresentanze sindacali più puntuale, più nel merito dei problemi. Tutto questo secondo noi non c'è stato e l'esito di questo confronto che è sfociato nello sciopero secondo noi conferma questo problema che c'è ed è il problema principale che stiamo cercando di affrontare. Diciamo che è una situazione in cui l'atteggiamento della proprietà probabilmente non abituata al confronto complica una vicenda che è oggettivamente difficile ma che tutti quanti stiamo cercando di risolvere perché qui nessuno deve dimenticare che l'impegno dei lavoratori e il sacrificio anche economico che loro hanno sostenuto in questi anni oltre che di posti di lavoro è forse stata la leva principale per il rilancio. Adesso ci occupiamo di trasporti. Il network delle stazioni ferroviarie abruzzesi si arricchisce di due nuove fermate Chieti, Madonna delle Piane, Nepezzano, Pianodaccio rispettivamente sulla tratta di Teramo-Giulianova e quella di Pescara-Sulmona. Noi andiamo a vedere adesso l'inaugurazione che si è tenuta questa mattina a Teramo, a Pianodaccio dove c'è stato un investimento voluto dal Comune e da Ferrovie per un totale di un milione di euro al fine di agevolare il collegamento con il centro città. Inaugurata questa mattina la nuova fermata Nepezzano-Pianodaccio di Ferrovie Italia che permetterà il collegamento fra la zona periferica ed il centro di Teramo, agevolando un facile spostamento per gli studenti della Facoltà di Medicina Veterinaria ma anche per chi deve raggiungere lo stadio Bonolis e l'adiacente centro commerciale. È un'opera che ci abbiamo impiegato circa un anno e mezzo per realizzarla ed è stata diretta dal Comune e noi abbiamo collaborato dal punto di vista finanziario e per quanto riguarda gli aspetti dell'esercizio ferroviario. C'è un piano di sviluppo di tutto il servizio ferroviario nella regione Abruzzo e voglio ricordare che abbiamo già avviato quella che chiamiamo la cura del ferro cioè creare tutta una serie di infrastrutture subito esigibili come quella che stiamo oggi aprendo all'esercizio commerciale per poter dare risposte immediate per il quanto riguarda il trasporto ferroviario. Con l'apertura della stazione di Pianodaccio garantiamo con 20 collegamenti quotidiani la possibilità a 2.500 passeggeri di avere un nuovo anello sul tema della rete di tipo regionale è una tratta nella quale Trinitaria crede a dimostrazione dell'investimento che se ne sta facendo. È un progetto costato circa un milione di euro con finanziamenti ministeriali, RFI e fondi PISU che noi abbiamo deciso di spendere qui perché era un obiettivo importante. Convocherò un tavolo a Teramo al quale parteciperà ovviamente il Comune, la provincia, la regione, l'ERFI anche tua perché si può portare avanti un progetto importante che trasformi questa tratta in metropolitana superficie e che eviti tante sovrapposizioni di trasporto che c'è tra ferro e gomma anche perché è previsto un taglio sul trasporto da parte della regione e questo ci potrebbe permettere di ottimizzare anche, come dire, di ridurre i disagi di questi tagli. Ed ora cambiamo argomento, ci occupiamo di sociale. Lorella Cuccarini, sabato, è stata in visita ad Introdacqua in provincia di L'Aquila a favore dei piccoli pazienti dell'Agbe è stata accolta ovviamente da tutta la cittadinanza dalle istituzioni e da tantissimi bambini in servizio. Un sorriso che regala felicità ed entusiasmo ogni volta Lorella Cuccarini riempie di magia ogni sua visita affascina, coinvolge e sorprende nella sua semplicità. Al fianco dell'Agbe, da più di un decennio questa volta ha voluto presenziare ad una giornata organizzata ad Introdacqua da un'associazione di genitori che da anni ha sposato la causa dei piccoli pazienti di Pescara una grande festa che avrà rappresentato la forza e la solidarietà che nutre questa grande famiglia. Noi abbiamo così insieme ad Agbe organizzato questa festa insieme per vivere un momento fra associazioni che andasse al di là di quella che è la realizzazione dei progetti ci conosciamo da 14 anni abbiamo realizzato insieme tante cose grazie a tutta la cittadinanza e oggi è stato un momento di condivisione molto emozionante. Un paese in festa dove a partecipare sono stati proprio tutti istituzioni, cittadinanza e tantissimi bambini Lorella Cuccarini con 30 ore per la vita regala da tantissimi anni sostegno e vicinanza per importanti progetti per l'Agbe tutto ebbe inizio con il reparto di oncoematologia pediatrica e poi la realizzazione della casa alloggio di Pescara e dall'inpoi tanti progetti susseguitesi con la sua presenza tra i quali anche il Day Hospital pediatrico inaugurato due anni fa. Anche se dovessimo cambiare o comunque implementare con altre iniziative manteniamo un rapporto e un filo diretto con tutte le associazioni che hanno beneficiato in questi 22 anni quindi veramente la nostra famiglia si allarga sempre di più e giornate come queste sono proprio indicative dell'affetto e dell'abbraccio che c'è tra le associazioni che ci siano progetti da realizzare e non. Ieri ha fatto tappa a Chieti la staffetta del cuore un'iniziativa su due ruote in ricordo di un grande pilota prematuramente scomparso Marco Simoncelli Su due ruote per aiutare le persone bisognose di cura medica e sostegno fisico è la staffetta del cuore che ieri ha fatto tappa a Chieti dove in piazza San Giustino è risuonato il rombo dei motori Ducati nonostante la pioggia i centauri si sono ritrovati per portare avanti la staffetta nel nome di un grande pilota italiano prematuramente scomparso Marco Simoncelli È una raccolta fondi che ormai è partita dagli inizi di aprile ha girato tutte le regioni d'Italia fino ad arrivare qui in Abruzzo dall'Abruzzo ripartirà per le Marche lo consegneremo noi personalmente dalle Marche arriverà in Emilia dove terminerà il tutto poi verrà consegnato il 3 luglio davanti alla pista di Misano alle ore 15 un assegno grande simbolico di tutto quello che abbiamo raccolto direttamente al papà di Marco Simoncelli a Misano e questo giubbetto verrà messo davanti al museo davanti alla fondazione ci sono le firme di tutti gli staffettisti d'Italia di tutti i motoclub che hanno partecipato che sono oltre 150-160 motoclub in tutta Italia prima della ripartenza verso Ascoli tappa successiva della staffetta i motociclisti hanno ricevuto la benedizione all'interno della cripta della cattedrale di San Giustino poi di nuovo in sella sfidando anche la pioggia Nell'ambito della lotta alle leucemie, linfomie e mieloma ha fatto tappa al porto turistico Marina di Pescara la barca dell'Ail Ulisse ha faticato per arrivare ad Itaca dove c'erano i suoi affetti tutto quello che era più importante per lui il paziente naviga su questa barca per raggiungere la sua Itaca che è la guarigione con queste parole Domenico Cappuccilli presidente della sezione interprovinciale Pescara-Teramo dell'Ail ha salutato al porto turistico di Pescara l'arrivo di Sognando Itaca la barca a vela dell'associazione contro le leucemie, linfomie e mieloma partita il 4 giugno scorso da Trieste con un equipaggio formato da skipper professionisti, pazienti, medici, infermieri e volontari dopo Venezia, Ravenna, Rimini, Pesaro e Ancona l'imbarcazione ha fatto tappa a Pescara dove si è svolto come in ogni porto di attracco l'Itaca Day una giornata di sensibilizzazione per ribadire l'importanza della velaterapia come metodo utile per la riabilitazione psicologica ed il miglioramento della qualità della vita dei pazienti il progetto Itaca nato 10 anni fa a Brescia da un'idea di un giovane amante della vela che purtroppo non ha vinto la sua battaglia contro la malattia è diventato l'iniziativa centrale della giornata nazionale contro le leucemie, linfomie e mieloma che verrà celebrata il 21 giugno prossimo a livello nazionale in occasione del decennale del progetto la barca concluderà per la prima volta il suo viaggio proprio ad Itaca è un'esperienza bellissima anche per chi come me ha navigato per un piccolo tratto ha ribadito Cappuccilli che è stato a bordo dell'imbarcazione da Ancona a Pescara la solidarietà, quella vera si leggeva negli occhi di tutti all'incontro ha partecipato anche il dottor Paolo Di Bartolomeo primario del dipartimento di ematologia dell'ospedale di Pescara che ha sottolineato l'importante ruolo svolto dall'AIL nel campo della ricerca clinica invece domani all'Aquila appuntamento con la giornata mondiale del donatore di sangue 2016 il 14 giugno all'Aquila sarà celebrata la giornata mondiale del donatore del sangue una giornata importante che in vista dell'estate serve soprattutto a sensibilizzare ancora una volta sull'importanza della donazione in Abruzzo infatti è spesso emergenza sangue dunque benvengano tutte le iniziative volte a supportare questa emergenza che con la stagione estiva si fa sempre più pressante alla luce delle nuove normative europee peraltro è necessaria la riorganizzazione della rete trasfusionale della regione Abruzzo la giornata del 14 sarà importante per parlare della donazione del sangue in Abruzzo la sala convegni dell'ordine dei medici dalle 16 alle 19.30 ospiterà il convegno sulla giornata mondiale del donatore parteciperanno l'Avis comunale con la sua presidente Maria Rita Cassiani l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci il presidente dell'Avis regionale Giulio Di Sante il presidente dell'Avis provinciale Antonio Giulianella il direttore del centro regionale sangue Pasquale Colamartino il dottor Luigi Dell'Orso primario di medicina trasfusionale all'ospedale dell'Aquila e Luciana Celeste che parlerà dell'esperienza del servizio civile nazionale del volontariato in questo senso la tavola rotonda finale sarà aperta a tutte le associazioni del territorio Tappapennese per l'ABC Abruzzo Contemporaneo evento dedicato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico e architettonico della Regione Verde d'Italia dall'11 al 26 di giugno presso la Casa delle Arti e dei Mestieri all'interno del Palazzo dell'Ex Tribunale saranno esposte le opere di Franco Fiorillo Piotr Anselevici di Berardo Rietti Toppet ci sarà un'esposizione straordinaria delle opere di Nato Frasca la mostra rimarrà aperta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21 ad accompagnare i visitatori nel percorso artistico ci saranno studiosi e storici locali Vestina News All'inaugurazione della mostra presente anche il nuovo sindaco di Penne Mario Semproni che coglie l'occasione per onorare la cultura Sono veramente lieto di essere qui in questa circostanza anche perché finalmente siamo riusciti a dare un'idea ai cittadini di Penne che la loro città e che è un'antica città non è però distante da quella che è l'arte contemporanea e l'arte moderna quindi abbiamo creato un connubio che forse fino ad oggi pensavamo non si potesse risolvere e questo veramente è una cosa importante anche perché io dico sempre che la nostra città deve vivere con tutto ciò che le potrà venire dal turismo e noi vogliamo fare in modo che la nostra città recuperi quel ruolo che ha avuto in passato un ruolo di capofila nell'ambito dell'area Vestina e poco fa si diceva si nominavano per esempio i musei e i tantissimi musei che abbiamo a Penne e ovviamente il nostro punto di riferimento sarà proprio quello di ulteriormente potenziare la rete museale ed attirare proprio grazie a questa rete museale che è semplicemente incredibile per estensione e per importanza attirare i turisti che dovranno venire qui a Penne e dovranno rilanciare la nostra città In apertura della pagina sportiva torniamo alla festa promozione del Pescara in Serie A sabato migliaia di persone hanno affollato Piazza della Repubblica dove c'è stata la premiazione presente il presidente della Lega di Serie B Andrea Abodi dei giocatori del Delfino il servizio di Andrea Costantini Alcuni giocatori sono in ferie da qualche giorno molti altri lasceranno Pescara per il meritato riposo nelle prossime ore ma portandosi dietro il bagno di folla di sabato scorso un entusiasmo indescrivibile di migliaia e migliaia di tifosi che dopo la notte di giovedì hanno continuato a celebrare il ritorno in A del Delfino e a inneggiare i loro begnamini una vera e propria passerella quella dei calciatori sul bus scoperto entusiasmo ai massimi livelli alla partenza dallo stadio in corso Umberto Montesipano e poi sulla riviera poco prima che la squadra arrivasse sul palco allestito in Piazza della Repubblica uno spazio che a stento ha trattenuto la folla biancazzurra con tanto di spettacolo per lo sventolio di bagniere serata nobilitata dalla presenza del presidente della Lega di Serie B Abodi che ha salutato il Pescara premiando la squadra ci dispiace che ci lasciate lasciate una Lega comunque che cerca di migliorare però che lo siete meritato vi guarderemo da lontano teniamo soltanto di vedervi in Serie A per il tempo possibile acclamatissimo tra gli altri il tecnico Massimo Oddo il nuovo profeta biancazzurro ma guardate io vi dico sinceramente che sto provando la più forte emozione la sto provando adesso perché prima non mi sono reso conto di quello che questi ragazzi sono stati per utilizzare poi non so sarà l'adrenalina la responsabilità il fatto di essere di Pescara e ho finito la partita che non avevo neanche le forze di risultare e invece adesso mi sto rendendo conto di quello che i ragazzi hanno fatto quest'anno un bravo a tutti quanti un bravo un bravissimo a tutto lo staff tecnico perché magari non li conoscete benissimo come i ragazzi come me ma hanno fatto un lavoro eccezionale assieme a me e anche più di me un bravo a tutti quanti un bravo a tutti quanti restiamo a parlare del Pescara sarà importante non ripetere gli errori commessi quattro anni fa pochi giorni dalla promozione parla così il presidente onorario del Pescara Vincenzo Marinelli ascoltiamo nel calcio ci si emoziona sempre l'emozione non ma se manca l'emozione manca la passione manca la motività di far bene per questa città soprattutto per la città perché io vorrei anche nei momenti euforici che le cose si cambiassero che va bene nel bene e nel male di una società perché il calcio è un po' è fatto di azioni non puoi vincere puoi perdere però io penso che Pescara possa fare ognuno con le proprie possibilità qualcosa di più si rivede un po' in Sebastiani come modo di agire altri tempi altri tempi però rapporto con i giocatori si d'accordo con i giocatori la prima cosa è che tu devi avere anche un feeling con loro devi essere capace anche di far capire a loro che la prima cosa sono la loro capacità di andare avanti e quindi di raggiungere determinati sogni chiudere adesso in Serie A cosa bisogna fare? beh bisogna soprattutto un po' tenere un po' l'ossatura di quella che è perché forse l'altra volta l'errore è stato di voler cambiare e dopo 4 anni siamo tornati in Serie A quindi sicuramente non è stata un'improvvisazione è stato un progetto una programmazione e grazie alla voglia e alla capacità di queste persone che ci sono state a mandarla avanti quindi anche nei momenti difficili si sono demoralizzati hanno capito che avevamo le possibilità di fare qualcosa di grande perché avevamo la squadra a un certo livello devo dire che i ragazzi sono stati eccezionali bravissimi perché hanno recepito un po' tutto quello che è stato detto e si è creata veramente una famiglia e con l'intervista di Enrico Rocchi chiudiamo la pagina dedicata al Pescara e passiamo a parlare della Virtus Lanciano dopo la retrocessione shock in Lega Pro la presidentessa Valentina Maio prova a guardare avanti e spera di poter ripartire forte per tentare una nuova scalata alla cadetteria però penso che a volte quando succedono queste cose bisogna capire bisogna fermarsi e capire che anche dalle situazioni negative si può ripartire si può ricostruire da capo perché comunque a prescindere dal direttore se va via o non va via sono cose che si stanno ancora valutando non si sa neanche l'allenatore non si sa niente non si sa i ragazzi che hanno voglia di rimanere o no non sappiamo anche noi però penso che se io e mio fratello ritrovassimo l'entusiasmo quello forte quello del primo giorno siamo in grado di ricostruire questa squadra e veramente di portarla in capo lista e quindi ritornare in Sarebbi perché siamo una famiglia onesta siamo due ragazzi onesti ci possono dire di tutto ma alla fine ci abbiamo sempre messo la faccia e siamo veramente dei bravi ragazzi con dei grandi valori importanti che ci trasciniamo dentro lui ha una caratteristica che io non ho che secondo me la sua forza è forse la mia debolezza lui è una persona molto realista molto concentrato su quello che è la realtà su quello che sono state le cose che ci hanno tolto e le cose che ci hanno dato io sono più di cuore sono più di pan però insieme secondo me lui con le sue cose io con le mie unendoci possiamo fare grandi cose ci diamo ancora di categoria in Serie D nonostante il successo in trasferta all'andata per il Pineto è stata tutt'altro che una passeggiata la partita di ritorno con il Subasio alla fine però la squadra di Ammazza l'Orso la spunta e rimonta per 2 a 1 e ottiene una storica promozione in Serie D il Pineto torna in Serie D a distanza di 18 anni il lascia passare per la compagine adriatica arriva al culmine di una partita al cardiopalmo solo all'apparenza semplice dopo il risultato dell'andata quando la squadra di Ammazza l'Orso si era imposta per 0-1 ad Assisi Inter-Abruzzese però la Subasio si è giocata il tutto per tutto ma il Pineto ha fatto leva sulle giocate decisive di India Ye uscito dalla panchina e del suo baby portiere Mazzocchetti in campo al posto dello squalificato Cattenari la gara del Mariani-Pavone inizia senza grossi sussulti almeno fino a metà della prima frazione quando i padroni di casa sfiorano il vantaggio con il palo centrato da Antenucci nel finale di tempo invece sono gli Umbri a sfiorare il vantaggio sugli sviluppi di un corner la conclusione di Porricelli viene salvata da Cacciatore nei pressi della riga di porta lo stesso Porricelli fa centro ad inizio ripresa dopo circa due minuti l'attaccante della Subasio batte Mazzocchetti porta i vantaggi suoi e pareggia il conto della serie i tifosi di casa vedono le streghe perché dopo il quarto d'ora Scartozzi timbra il secondo palo di giornata e poco dopo la Subasio ha l'occasione di far su alla finale Gramacci si guadagna un calcio di rigore ma Mazzocchetti diventa protagonista e ipnotizza Porricelli scampato il pericolo il Pineto si ridesta con le giocate del nuovo entrato Ndiaye che al ventesimo viene atterrato in area da Fagotti lo stesso Ndiaye fa centro dagli 11 metri passano 7 minuti il Pineto raddoppia Ndiaye scambia con Cacciatore e Fasecco l'estremo ospite è il gol della sicurezza il gol del 2 a 1 il gol che spalanca le porte della D al Pineto la festa ha così inizio è una vittoria innanzitutto della società che ci ha fatto lavorare benissimo poi del gruppo giocatori che hanno fatto delle cose incredibili e poi di questo calore che ci ha trasmesso la gente grazie a tutti Questa era l'ultima notizia del nostro giornale i prossimi appuntamenti con il TG6 sono alle 19 e alle 23 grazie per essere stati con noi buona giornata grazie a tutti